Livelli del Lago Maggiore, i sindaci della Sponda Piemontese tornano all'attacco chiedendo al Consorzio del Ticino un monitoraggio costante per evitare i rischi connessi alle eventuali bombe d'acqua. La lettera è firmata dai primi cittadini di Verbagna, Stresa, Cannobbio, Gebbio, Giffa, Baveno, Meina, Lesa, Belgirate, Arona, Dormelletto e Castelletto. Da due anni è in vigore un protocollo sperimentale di innalzamento del livello del Lago Maggiore sulle portate del Ticino gestite in modo artificiale dalla traversa del pan perduto che a sua volta dipende dai prelievi effettuati a monte e dalla regolazione dello sbarramento della Miorina. Con i forti temporali tra il 26 e 29 giugno la portata del Ticino è cresciuta velocemente ma scrivono i sindaci nonostante le previsioni meteo di criticità ordinaria dell'ARPA Piemonte e quelle di meteo svizzera con previsione di allerta grado 4 il Consorzio del Ticino solo a partire dal 28 giugno effettuato una simulazione ed un'effettuazione di manovra sottostimando le previsioni. Proseguono i sindaci di fatto le manovre per aumentare l'erogazione delle portate del Lago Maggiore sono iniziate quando il livello aveva già raggiunto il massimo consentito. Nella lettera si ricorda come l'innalzamento del livello del lago diminuisce l'area fruibile delle spiagge ma anche moli di attracco e opere di difesa. I sindaci chiedono di contemperare tutte le esigenze a monte e a valle in caso di previsioni di eventi o meteo eccezionali intense le cosiddette bombe d'acqua è necessario effettuare manovre di abbattimento preventivo completo dell'opera di regolazione e aggiungono l'approccio proposto che considera il Lago Maggiore un serbatoio da utilizzare esclusivo servizio delle esigenze di valle deve essere ripensato. Chiedono inoltre di discutere gli effetti economici ambientali e di sicurezza idraulica tra tutti i soggetti presenti al tavolo tecnico istituito dall'autorità di Bacino e comprendere sia i territori rivieraschi che quelli del Ticino sub con l'acquale.